Tangorra di testa, vedete parte Gio Paolo, la palla al portiere, scatta Tovaglieri, prende il pallone, supera il portiere, al centro Gio Paolo, gol! A porta vuota, il Bari in vantaggio al primo minuto, dopo 40 secondi avete visto, Gio Paolo ha portato il Bari in vantaggio. Un alleggerimento piuttosto ingenuo da parte di un difensore verso Bosaglia, il portiere Veneto, Sandro Tovaglieri, astuto come una volpe, ha intuito che il portiere era in ritardo, è riuscito a prendergli il pallone, ad aggirarlo, a portarselo a spasso in aria, a metterlo al centro e offrirlo su un piatto.